no cosa non c'è il livello, cosa c'è il livello, non c'è il livello qua è un'evidenza, segno che, vedi, ci volevo segnerci c'è il livello, c'è il livello, quella madonna stupendo, vai sotto tantissimo pitu, pitu, vatten'affanculo qua il torto lo facciamo il mese prossimo teniamo a mente che dobbiamo anche uscire da qua, eh figlio che bello, Berto non c'è andata male oggi questa qua, compensa tutti i file che abbiamo fatto oggi ma non lo diciamo nessuno ho fatto 200 appartienti 200 appartienti 200 appartienti non sa che noi stanotte non vediamo ma qua cos'è di verde cos'è che qua è una una delle alzocche da cazzo vengono ma qua dov'è? è buro? figlia che ragno che ho visto Berto sopra di te vieni via è un predato eh non capisco questa cosa perché che terrazza però guarda qua come rincare bianco più letta più letta della ricetta e della bianco della vita bianca e poi non è bianca è una navina chi c'è? dove è? chi c'è da restare? viva un pino che è quello del tema prezzo a rosso o prezzo a blu? eh esatto stanno andando con il video qua si vede c'è luce vedo luce anche di là si c'è da sotto due i lati vuoi vedere dove siamo e facciamo una boccata d'aria? poi torniamo giù però o andiamo giù di là dopo o se no torniamo indietro giù di là è presente che è tutto di andare come si c'è da fare che c'era la il tubo che tagliava giù con non so se non è ecco ma insomma che è un laboratorio quando è? oh ma qua si fa ancora però avviene su prima ci sono ancora le piscine qua, per me sono ancora le piscine ora c'è il mio vero 10 secondi per me è anche andato fuori dai tunnac su questi qua che sono venuti a fare gli stereologi dopo che paghiamo da dire è arrivato che voglio rendermi un po' colto però comunque sembra ancora un pezzo di ufficina o roba del genere iscriviti al nostro canale Sì, le visitiamo, così passando a foto, non vede? Allora, se vi è tastato, ci ha fatto appunto, va là, è l'acqua tutto, è l'acqua tutto? Questa magari non è la piccola che mi chiede, sì, sembra un po' disavisata, no, guarda il testo, Questa è lì che la sia lura, insomma, vedete, ma è simile tutto, fino a qui, no? Eh, c'è una forza, prima non c'è un cazzo, no? Ma c'è un bel simulare, e Mosco, Deja Vu, ti giuro, guarda che è di più un orco, Deja Vu, sì, quello, se questo no, ma quello sì, lo fotografo anche su parte gara. Sì, quanto pare. Sì, quanto pare. 它, c'è tempo, è uno dei occhi che non può cercare. Da, c'è quello in condituzione? Sì, sì.